Ciao, sono Fausto Flavi, faccio per il terzo anno questo bellissimo campionato Super Cup di Giovannini e devo dire che quest'anno corro con la Leon Cupra, due anni fa ho vinto con la Mini e ho la grande soddisfazione di avere per la prima volta che corre con me mio figlio con la Mini Flavi Lorenzo, perciò per me è una giornata veramente importante e sempre complimenti per la grande organizzazione e questo circuito lo conosco da sempre perché io correvo anche negli anni 80 poi ho smesso per tanti anni, ho iniziato tre anni fa lo conosco anche quando era molto più breve come circuito e l'obiettivo per il weekend è l'importante arrivare alla bandiera a scacchi questo è il mio obiettivo di sempre sì, ecco, il mio sponsor tra virgolette principale è la mia azienda Top Quality Group e il team CPR sono veramente fantastici poi ho dei miei collaboratori che si dilettano anche in cucina perché la cosa più bella è trovarsi poi la sera a mangiare tutti insieme perché deve essere sì una gara ma veramente un grande divertimento grazie a tutti grazie a tutti